Dall'Italia, pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Perugia, città della Pieve. Guarda un po' quanti! 3.000 persone, guarda qui! Guarda quanti, tu che berretti, vedi? Berretti, guarda un po', eh? Voi due guardate qui! Bravi, bravi! Accompagnati dall'Arcidiocesi di Monsignor Quartiero Bassetti! Sì, vediamo! Pellegrinaggio della Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia... Anche là, vedi là, siete accorti?